Esattamente 40 anni fa, sul mezzanino della scalinata che porta alle aule professori della Facoltà di Scienze Politiche e della Sapienza a Roma, Vittorio Bachelet aveva appena finito di tenere una lezione e conversava con la sua assistente, Rosy Bindi. Ad un tratto, una sconosciuta si fa avanti. Lo raggiunge alle spalle, lo afferra con una mano e lo costringe a voltarsi. Partono i primi tre colpi di pistola, tutti al ventre. Rosy Bindi si mette ad urlare, mentre la giovane donna retra velocemente. Allora si fa avanti un uomo giovanissimo, impugna anch'egli una pistola, si china su Bachelet e gli spara. E per essere sicuro che la vittima fosse morta, gli spara un ulteriore colpo alla nuca, il colpo di grazia. I due assassini erano Anna Laura Braghetti e Bruno Seghetti, entrambi delle Brigate Rosse, che una volta catturati furono condannati all'ergastolo. Vittorio Bachelet era un uomo stimato, un giurista, un politico raffinato, un docente universitario e dirigente dell'Azione Cattolica, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, un simbolo delle istituzioni e, come disse l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il vertice del pilastro fondamentale della democrazia. Oggi, nell'ambito dei percorsi di cittadinanza e costituzione, in collaborazione con il MIUR, presso il Tribunale di Vibo Valencia si è tenuto un incontro per commemorare Vittorio Bachelet, durante il quale è stato proiettato un video ed è stato presentato un volume, edito per l'occasione. È un messaggio importante. Nel filmato che è stato proiettato abbiamo visto quanto fosse difficile essere uomini delle istituzioni nell'epoca in cui sono caduti uomini come Vittorio Bachelet. È un insegnamento importante. È importante che il Ministero dell'Istituzione si faccia portatore di questi messaggi, partecipi a queste iniziative. Noi cerchiamo dal canto nostro di andare nelle scuole sempre a portare il messaggio della legalità come stella polare, soprattutto per i ragazzi giovani. Il futuro è loro, solo loro ci possono salvare, soprattutto in territori difficili come il nostro. Quel giorno alla Sapienza di Roma c'era anche l'attuale prefetto di Vibo Valencia, che ricorda così quei drammatici momenti. Quel giorno ero lì a seguire una lezione di diritto romano con il professor Brutti, quindi purtroppo sono stato testimone involontario di quello che è successo. L'assassinio del professor Bachelet è qualcosa che mi ha colpito personalmente, perché era la prima volta che quello che vedevo in televisione, sul giornale, invece lo vedevo di persona. Quindi è un ricordo, da un punto di vista personale, sicuramente molto forte. Però è importante che venga ricordato adesso, a 40 anni della sua morte, come esempio. Come esempio nella sua vita, esempio anche, direi, da parte della famiglia, di quello che la famiglia è riuscita a fare anche successivamente. E possiamo dire che forse il sacrificio del professor Bachelet a qualcosa è servito. Forse è servito a far capire a tanti di questi terroristi che la strada che avevano intrapreso era una strada comunque senza ritorno.